Emilia Lanave Guido Marinelli Candidati indipendenti per la Regione Lazio nelle liste di liberi uguali Vogliamo portare in Regione l'esperienza dell'attività territoriale e dell'attività nel sociale con i cittadini Vogliamo valorizzare e far conoscere l'immenso mondo dell'università e delle ricerche che è ospitato dalla Regione Lazio perché aprendolo al territorio, mettendolo in rete con le tantissime imprese e tantissime eccellenze può diventare il vero motore di sviluppo della Regione Pensiamo che il contrasto alla mafia, alla corruzione e alle comafie sia un valore essenziale per poter portare la nostra Regione negli anni del terzo millennio Vogliamo aiutare e sostenere le piccole e medie imprese e soprattutto rilanciare le tantissime attività artigianali, tradizionali e di qualità che abbiamo nella Regione perché sono il vero vanto del nostro territorio Pensiamo che valorizzare l'ambiente, ridurre il ciclo dei rifiuti per riusare la materia e garantire mobilità sostenibile siano dei valori essenziali per raggiungere gli obiettivi che abbiamo citato Grazie 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 Grazie